Grazie a tutti E oggi per noi è una bella partita 3-0, molto bene, tre punti molto importanti e poi vediamo la partita Latina, sempre difficile di giocare qua, vediamo, prepariamo questa partita e spero di vincere Appunto la prossima gara è contro Latina, la tua ex squadra ci sarà un po' di emozione da parte tua Abbiamo giocato un anno là, la prima esperienza in Italia, è sempre una cosa speciale, anche una bella squadra secondo me, buon giocatore, spero di fare una buona partita e spero di prendere anche punti là e la vittoria anche Questa sera sei entrato dal secondo set in poi con grande grinta, quindi un'ottima prestazione tua come quella di squadra Sì, io sempre provo di apportare qualcosa, squadra, un po' di energia anche e poi oggi abbiamo giocato tutti insieme, tutto bene, anche Galaxy è entrato, anche Angel, anche tutti i giocatori che hanno entrato Ha giocato bene, sei in squadra, no, vittoria della squadra oggi